Indiana Line Musa 105 Qualche anno fa la serie Musa rappresentava la parte più pregiata della produzione Indiana Line. Si presentano con un elegante cabinet in MDF impiallacciato con legno di palissandro. A prima vista nessuno potrebbe attribuire a questa coppia di diffusori un prezzo così contenuto sia per la qualità dei materiali che degli altoparlanti. Trasparenza, ricostruzione armonica degli strumenti, precisione, sono decisamente superiori a diffusori della stessa fascia di prezzo e non sfigurano affatto anche utilizzati con elettroniche di livello ben più elevato. Sono diffusori ben bilanciati e grazie alla loro buona estensione delle frequenze basse hanno una completezza di suono che ben difficilmente si trova a questi prezzi. Il timbro è assolutamente sano e ben si apprezza anche la riproduzione di strumenti acustici. Hanno un woofer da 150 mm, sensibilità 90 dB, potenza amplificazione consigliata da 30-80 W, come nuove con imballo originale.